andando a prendere gli altri due stronzi che faccia da cattivo siamo carichi, siamo carichi sono le 9 di mattina e adesso ci andiamo a caricare e poi partiamo e quindi qui siamo semplicemente fans con il buon pubblico e il buon pubblico è sempre con voi la mia voce vi accompagna sempre nel club più esclusivo d'Europa welcome to Valle d'Aosta, l'altra è morta l'altra è morta, persa, dispersa comunque tra un'oretta circa siamo andati a destinazione cioè Cerviglia buonanotte signori, buonasera buonanotte dritto per dritto sono potente ciao a tutti Grazie a tutti E siamo arrivati a destinazione finalmente Adesso ci dovremmo mangiare qualcosa e poi siamo ancora in pompa di brutto Minchia pofana Faccio rap, spacco facts Buonasera Buonasera Nucca questo porco Dio Buongiorno Siamo appena svegli Io Oculte Dove sei Oculte Oh sono qua Eccoti Ciao al mondo Sempre il numero uno sempre sul pezzo stiamo facendo il set stasera io sono un uomo raffinato quindi torno in camicia sempre pettinato a chialetto stasera 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 ne piazzano altre 4 di sera ne piazziamo altre 1000 al prossimo evento stasera 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 stasera